Scusa, non te voglio annoiare col calcio, ma ti rendi conto che Juve, Milan e Inter con quelle altre se volevano far un torneo tutto loro, a cui accedevano ogni anno per diritto? Ma così togli la competizione sportiva, le sorprese, così diventa una questione esclusivamente del potere economico, vincono sempre loro. Invece il bello è che non lo puoi mai sapere, non te voglio annoiare, però insomma è calcio, ci sono sempre delle varianti, delle cose inattese, non sempre vinci il più forte, il più ricco. Prendi la favola dell'Ester City, è una squadra inglese che contro ogni previsione guidata dal nostro mister Ranieri nella stagione 2015-2016 ha vintato la Premier League, poi c'è pure il Porto che ha vintato la Champions nel 2004, negli ultimi vent'anni tra Champions, campionati nazionali, molte vogliono gli accorcarci, però a memoria c'è stata la favola dell'Ester di Ranieri, poi vanno a controllare. Effettivamente negli ultimi vent'anni in Premier League, al di là della favola dell'Ester, hanno vinto i due Manchester, il Chelsea, l'Arsenal e il Liverpool. In Spagna, sempre negli ultimi venti campionati, 17 si sono spartiti Barcellona e Real Madrid. In Germania addirittura 14 volte su 20 ha vinto il Bayern Monaco. Non ti voglio annoiare col calcio, comunque in realtà anche in Italia c'è la Juventus negli ultimi vent'anni ne ha vinti 14 campionati, però due gli hanno torti per cacciopoli. Però in Italia c'è un'anomalia, insomma se non altro in Premier League negli ultimi vent'anni ci sono state 6 vincitrici e al di là della favola dell'Ester, le 5 big si sono sempre giocate la vittoria, tant'è che al secondo posto per 19 volte su 20 si sono piazzate sempre una tra i due Manchester, il Chelsea, l'Arsenal e il Liverpool. In Spagna 12 volte su 20 i primi due posti li hanno occupati il Barca e il Real e si sono alternate la vittoria anche due volte il Valencia e uno l'Atletico Madrid. In Germania il Bayern oltre alle 14 vittorie, tre volte è arrivata seconda, altrimenti c'è il Borussia Dortmund che è arrivato 5 volte secondo negli ultimi vent'anni, vincendo però anche 3 campionati. E comunque hanno vinto anche lo Stoccarda, il Werder Bremen e il Wolfsburg. Molte vogliono gli accorcaccio, ma in Italia invece, cosa strana, negli ultimi vent'anni hanno vinto più volte solo la Juve, l'Inter e Milan. Però qui sta l'anomalia, guardando i secondi posti negli ultimi vent'anni in Italia, Juve, l'Inter e Milan ci sono arrivate solo 7 volte. Per 13 volte rispetto alle big del nord Italia si sono state altre seconde. Cioè la Roma è arrivata 9 volte seconda, più di chiunque altro in Europa, il Napoli 4 volte, tra l'altro 4 volte negli ultimi 8 anni e 0 scudetti. A Roma 1 solo ma proprio vent'anni fa. Infatti se fai il conto dei punti totali raccorti in campionato negli ultimi vent'anni, la Juve è nettamente prima con 1531 punti, seconde però sono l'Inter e la Roma perfettamente a pari medio con 1395. Il Milan invece sta a 51 punti sotto, però l'Inter e il Milan 7 scudetti, a Roma 1. Scusa, ente voi a noi accor calcio, però scoppia calciopoli, la Juve e il Milan crollano, dici finalmente sa giocheranno tante. No, domina l'Inter che lascia al secondo posto a Roma 4 volte su 5. Quando poi finisce l'era Inter dici finalmente il turno da Roma. No, la Roma cala e c'è tempo per uno scudettino e il Milan che era svanito da 6 anni. Poi rispariscono mila Inter e riparte il dominio da Juve, 9 scudetti de fila, 7 volte lasciando seconde Napoli e Roma. Poi proprio quest'anno finalmente a Juve toppa, dici quindi il turno da Roma o da Napoli. No, perché torna dalla grande l'Inter che domina. La sensazione è che le tre big del nord si spartiscano scientemente gli scudetti, senza manco troppo darsi fastidio. Altro che antagonista, quando una delle tre deve vincere, le altre due non rompono i coglioni. Eh, scusa, io non ti voglio non chiaccor calcio, però dice che c'hanno più tifusi. Grazie al cazzo, se vincete sempre voi. Dice che fanno la Superlega perché sono pieni di debiti e rischiano di fallire in pochi anni. Porelle, scusa ma le sette sorelle, ci ricordiamo. Tra la fine degli anni 90 e primi del 2000, oltre alle tre solite big del nord, c'erano saldamente i vertici italiani ed europei, anche la Fiorentina, con due coppe d'Italia e una supercoppa, la Roma con uno scudetto e una supercoppa, il Parma con tre coppe d'Italia e una supercoppa, due coppe UEFA e una coppa delle coppe, e la Lazio con due coppe d'Italia, due supercoppe, una coppa delle coppe, una supercoppa europea e uno scudetto. Poi di colpo, ribotto, crack del Parma, l'attentanzi, e il Parma si disintegra, crack dei cecchi cori, e ciao Fiorentina, crack d'acidio dei craniotti, e la Lazio si squaglia. E senza, per far vincere lo scueta a Roma si spenna tanto che finiamo manare i banchi, lo stesso Napoli in decennio prima ha dovuto comprare un extraterrestre per vincere, e poi, manca a dirlo, crisi finanziaria e collasso. Il tuo voglio annoi a corcaccio, ma sono solo coincidenze? Non lo so, fatto sta che nessuno all'epoca avessero verso il culo ci ha avuto la brillante idea della Superlega. Non ci avete più i sordi? Sti cazzi, avete vinto sempre tutto voi, come e quando volevate, famo che magari per un po' ve levate dai coglioni. La Superlega già ce l'avete da più di vent'anni, la favola dell'Ester di Ranieri è la favola di te che ci racconta, non topelludeci, si può pure perdere nel calcio, mica in crimine, manca un dramma.